Le novità su safety e security, su protezione civile e sicurezza delle città sono tantissime. Quindi abbiamo allustrato la nuova legge sulla protezione civile, che differenzia le responsabilità delle autorità territoriali di protezione civile, come responsabilità di indirizzo politico e di vigilanza sulle strutture. Abbiamo parlato della nuova legge sulla sicurezza delle città, sull'attuazione delle previsioni contenute, che mette in luce la partecipazione, l'interoperabilità tra polizie locali e forze di polizia e la cooperazione nell'ambito del Comitato Provinciale d'Ordine Pubblica e Sicurezza tra le diverse competenze che sono previste in capo ai comuni e in capo alle prefetture che rimangono autorità di pubblica sicurezza sul territorio. Da questa collaborazione, da questa qualità della collaborazione, emergono nuovi e più efficienti strumenti e servizi in favore dei cittadini per tutelare il bene e sicurezza. Strumenti anche innovativi, sono state recentemente adottate le linee guida per la sicurezza integrata, adesso sono di prossima emanazione le linee guida sulla sicurezza urbana, un corredo di strumenti dove i comuni potranno ulteriormente adeguare la propria realtà territoriale e alle esigenze di maggiore sicurezza all'interno delle comunità territoriali.